Questa chiesa è Santa Rita. Fa parte della parrocchia Santa Monica di Malali, una delle chiese colpite dagli attacchi di Boko Haram. Sono esattamente di fronte ai resti della macchina dell'attentato che è successo qui, alla chiesa di Saint Finbers, l'11 marzo 2012. Era una domenica mattina. Questa chiesa è la chiesa Sant'Agostino a Tudunuada, Caduna. È stato nel 2011 che la chiesa è stata bruciata. Durante la notte sono venuti da quell'angolo, da quella direzione e da dietro questa scuola. La macchina non voleva fermarsi, voleva entrare nel cortile. Quindi abbiamo visto un sole, il lampo della bomba. Non siamo migliori delle persone che sono morte. Siamo vivi e glorifichiamo Dio che ci dà la vita. E lui sa la ragione per averci fatto vivere. Quindi glorifichiamo Dio. Oh, you give glory to God.